Cari amici TecnoZoom, caratteristiche tecniche dello smartphone Nokia N96 da 16GB. Questo smartphone ha un sistema di apertura slider a doppio scoglimento. Le sue dimensioni sono importanti. Lunghezza 103 mm, larghezza 55 mm, però la profondità è di 18-20 mm. Il peso è di 125 grammi. Lo schermo di Nokia N96 è da 2,8 pollici, a risoluzione 240x320 pixel, TFT, LCD fino a 16 milioni di colori. L'interfaccia è la S60 terza edizione Future Pack 2. Al suo interno troviamo 256 MB di ROM e 128 MB di RAM. La memoria flash allocata è molto buona, da 16 GB. E volendo si può anche espandere utilizzando schierine microSD. Ecco lo slot. La connettività del telefono è il tribando GSM Edge 3G, con possibilità di videochiamare. E inoltre è presente la connettività HSGPA, per un veloce trasferimento dati fino a 3,6 Mbps. Grazie. 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 Grazie.